SIGLA Dopo una mattinata impegnativa, le reclute si meritano una pausa pranzo. Tenimi il posto che mi c***o come una bestia. E le novità non sono finite. Mauri, si alzi, venga con me. Venga con me. Cosa è successo? Il teatro e il cappellino. Allora, Mauri, lei era di piantone di sera. Sì. Io voglio sapere, oltre a chi ho punito, chi sono le altre persone che hanno fatto il bordello. Voglio i nomi. I nomi sono Ferrettini, si è buttato, poi Cassardo e Corsaro, che era il suo cumpleanno. Non so anche se Cimadoro, lui non sono certa che si sia buttato anche lui. Oltre a quelli che ho già punito? Sì. Le ragazze no? No, loro erano tutte dentro a dormire. Ok. Va bene, può andare a mandare. Grazie. A lei. Hanno punito me e i soliti cinque che puniscono. Che c'era? No, niente, raga. Però c'erano altre persone che sono tornate a dormire ed è quello l'atteggiamento sbagliato. No, ma adesso è una roba. Ah, non ti taglio i capelli? No, ma va, ti pare. È stata anche simpatica. Grazie. 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 Grazie.